Siamo qui con Danilo Ramirez, candidato alla Camera per il partito Italexit nel collegio di Biella Vercelli. Buongiorno Ramirez, cosa ci racconta oggi? Buongiorno, oggi ho un confronto con il rappresentante dei 5 Stelle. Che naturalmente è seduto accanto a lei. Certo, non si vede? No, guardi, si vede esattamente come gli altri. Sentiamo la sua domanda. Certo, dunque, candidato 5 Stelle, ho visto che il tuo nome è sulle liste elettorali esattamente dove c'è anche il mio. Ora io volevo chiederti, con quale coraggio ti presenti a queste elezioni? Quattro anni fa siete entrati in Parlamento promettendo, giurando che non vi sareste mai alleati con la Lega, che non vi sareste mai alleati col PD, poi non avete rispettato nessuna delle promesse fatte ai vostri elettori. E ti ripresenti? E' però così noi non sentiamo la risposta. Infatti, cosa avrebbe dovuto rispondere?